Exoraptics, oggi andiamo insieme a conoscere questa bellissima Ford EcoSport motore 1000 benzina 125 cavalli, cambio manuale, l'auto a 11.900 km ed è matricolata aprile 2022. Abbiamo caratterizzato l'allestimento ST-Line dove prevede la presenza di cerchi lega raggio 17, retrovisori elettrici, barre al tetto con vetri posteriori oscurati, nella parte posteriore abbiamo sensori di parcheggio posteriori e poi l'apertura laterale che caratterizza quest'auto dove abbiamo doppia panca alleclinabile, doppio fondo e luce di cortesia. Internamente abbiamo dei comoli stili in tessuto misto pelle con vetri elettrici posteriori oscurati. Abbiamo poi display touchscreen appunto dove gestire l'infotainment con Android Auto e Apple CarPlay, Bluetooth, frenata d'emergenza, clima automatico AUX USB e preda 12V, cambio manuale 6 marce, bracciolo portoaggetti, comandi al volante con limitatore cruise control e comandi radio e Bluetooth.